Astea Energia Gruppo SGR per parlare di super bonus a 110% Nelle puntate precedenti abbiamo sviscerato alcuni argomenti piuttosto tecnici Continuiamo questa volta puntando l'attenzione sugli impianti termici ed elettrici Lo facciamo e quindi vado a presentare gli ospiti che mi fanno compagnia in questo piccolo spazio L'ingegner Marco Cardinali che è responsabile dell'efficientamento energetico di Astea Energia Gruppo SGR E poi Fabrizio Ferraioli responsabile impianti termotecnici della Ferraioli Azienda che fa parte del gruppo SGR E Francesco Lazzaro che è responsabile degli impianti elettrici Sempre della stessa realtà industriale la Ferraioli Gruppo SGR Allora, Ingegner Cardinali, flash, il super bonus a 110% le opportunità e perché Astea? Finalmente si sono definiti un po' tutti i parametri operativi del super bonus a 110% E quindi quella che per tanti mesi è stato quasi un sogno è diventata realtà Giusto per riepilogare un po' per tutti I requisiti essenziali per l'accesso al super bonus sono il raggiungimento del miglioramento dell'efficientamento energetico delle abitazioni di almeno due classi energetiche E in più l'effettuazione di alcuni interventi che danno l'opportunità di avere accesso a questo super bonus che vengono detti trainanti Questi interventi sono sugli edifici condominali, cappotto termico o centrale termica centralizzata Mentre per quello che riguarda le singole unità immobiliari o le unità immobiliari funzionalmente indipendenti Sono gli interventi di riqualificazione sulla centrale termica Se si effettua almeno uno di questi interventi è possibile avere anche altri interventi che vengono detti trainati Che ottengono lo stesso bonus fiscale E sono il miglioramento energetico legato all'installazione di infissi, di schermature solari Ed anche con dei plafond di spesa ad hoc fotovoltaico e colonine di ricarica Ad esempio è importante dire come magari su un edificio condominiale dove ci sono molte unità immobiliari Diciamo che il requisito essenziale per raggiungere il miglioramento delle due classi energetiche è sicuramente il cappotto termico Più tutti gli altri interventi che abbiamo definito come trainati sono a corollario dell'intervento Molto più interessante invece un ruolo determinante viene rappresentato dagli impianti Soprattutto sulle singole unità immobiliari o funzionalmente indipendenti Dove ci troviamo in molti casi nell'opportunità che solo con gli impianti Si riescono a raggiungere già delle prestazioni termiche interessanti Con un miglioramento di due classi energetiche Anche solo montando magari una centrale termica in pompa di calore Un impianto fotovoltaico con relativo accumulo E magari anche una colonina di ricarica o gli infissi Questi chiaramente per noi rappresentano la clientela più interessante Giusto per riepilogare e anche per dare la centralità del ruolo di Astea in questo settore del super bonus al 110 È legato al mondo delle asseverazioni del visto di conformità Perché per avere accesso al 110 è importante avere un pool di professionisti che lavorano insieme Che oltre da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista termotecnico che elettrico Analizzino bene diciamo l'intervento da fare Ma tutte le prestazioni termotecniche devono essere asseverate Asseverare significa certificare sia in termini di rendimento di prestazioni Che in termini di congruità dei prezzi Perché il Mise ha stabilito anche che una certa tipologia di intervento deve costare Deve stare all'interno di alcuni parametri L'ultimo passaggio importantissimo e fondamentale è quello del visto di conformità Che appunto un commercialista deve rilasciare a seguito delle asseverazioni Quindi se le asseverazioni sono congrue tutto viene controfirmato da un professionista fiscale Che chiaramente determina, circoscrive l'intervento e dà luogo alla generazione del credito fiscale Nel cassetto fiscale Chiaramente noi siamo come azienda molto interessati facendo l'intervento con il nostro capitale proprio Per il cliente finale siamo interessati che tutto il ciclo si concluda correttamente Quindi ce ne facciamo carico dall'inizio alla fine E questo è particolarmente importante per chi appunto come ci ricordavano L'ingegner cardinale vuole iniziare una serie di lavori complessi O per chi vuole andare a intervenire su un singolo aspetto della propria abitazione Che sia essa privata o che faccia parte di un complesso condominiale o residenziale E quindi entrano in gioco i tecnici Fabrizio Ferraioli, lei ha una storia nel mondo termotecnico con una carriera di quasi 40 anni Quindi ha iniziato giovanissimo Come vede questo super bonus e la cessione di credito in questo momento anche così complesso Nel quale ogni spesa va valutata attentamente Però lo abbiamo capito, questa è una grande e forse irripetibile opportunità Ferraioli Infatti questa grande opportunità ha fatto un attimino un passaggio nella storia degli impianti Dove si sono costruiti gli impianti all'epoca Impianti che pensavano solo al conforto domestico Ma non al risparmio energetico, a un rispetto dell'ambiente Oggi quegli impianti purtroppo la gran parte ancora sono funzionanti Sono funzionanti e diciamo quei circa 20 milioni di impianti Il 90% sono obsoleti E questo super bonus dà una grande opportunità Nei condomini in particolar modo dove sappiamo bene Oggi la situazione economica purtroppo non è per tutti uguale in un condominio E quindi permette di uniformare questa economia In modo di fare l'investimento Che grazie ai super bonus può usufruire un condominio Cambiando nello specifico, proprio nella nostra attività La centrale termica che come diceva l'ingegnere È un intervento trainante Certo, sostituire la centrale termica Il super bonus ci dice guarda che ci sono altre cose da fare E quello è esempio il cappotto per un contenimento energetico Perché quello che produciamo lo dobbiamo trattenere E trasformarlo in conforto ma allo stesso tempo anche in risparmio energetico E gli interventi sono diciamo in gran parte nei condomini Ma anche nelle villette unifamiliari Dove possiamo in qualche modo andare ancora più avanti Nella tecnologia dove troviamo la possibilità di sostituire gli impianti La vecchia caldaia gas con un impianto ibrido O addirittura full electric Perché la tecnologia della pompa di calore La pompa di calore sostituisce proprio integralmente la caldaia gas E si trasforma in buona efficienza In particolar modo diciamo quasi una sicurezza Per diciamo per anche spesso alcuni ambienti Dove purtroppo in questi anni si è installato magari non correttamente E quindi diventa anche un adeguamento alla sicurezza E certo che gli impianti Non solo tante volte serve solo esclusivamente La parte diciamo impiantistica pura Ma se non abbinata a un sistema diciamo completo Che può essere diciamo legato all'impianto elettrico Con una produzione elettrica garantita da un solare Un solare che attraverso un sistema di accumuli Che magari dopo spiegheremo bene con il mio collega Possiamo integrare e rendere autonomo Autonomo a diciamo un'abitazione Ma Ferraioli con un intervento mirato Per esempio con un fotovoltaico O con una pompa di calore Si può già passare a questa A migliorare queste due classi energetiche Che quindi darebbero diritto a questo super bonus Certo Basterebbero questi tipi di interventi singoli e mirati In alcuni casi Ad esempio c'è una singola villetta Che magari parte da una classe energetica particolarmente svantaggiata Il miglioramento termico e prestazionale dell'edificio Non è solo legato all'installazione di un cappotto Ma è tranquillamente collegato già al miglioramento energetico del generatore Perché sostituisce una caldaia che magari ha un rendimento del 70% O una pompa di calore che ha un rendimento teorico magari superiore anche al 100% in alcuni casi E quindi questo è incoraggiante Appunto per chi magari non vuole affrontare dei lavori particolarmente complessi O non li può affrontare E quindi può andare ad intervenire in maniera precisa Francesco Lazzaro Lei è responsabile degli impianti elettrici Quindi le chiedo da tecnico Si può usufruire di questo 110% Con il fotovoltaico, con la pompa di calore Ma il vecchio regime ci ricorda Lo dicevamo anche nelle puntate precedenti Della possibilità di avere un 65% Allora come può districarsi un normale cittadino Chi ha interesse, chi ha voglia Chi vuole capire qual è la strada migliore da percorrere Sicuramente è fatta un'analisi E vista la possibilità del salto delle due classi Con il solo intervento sugli impianti Conviene abbinare alla pompa di calore Che dicevamo, che è la sorgente che produce il calore Un sistema fotovoltaico In maniera da autoprodursi Quell'energia elettrica necessaria Per poter appunto far funzionare tutto il sistema Da qui il 110 introduce L'impianto fotovoltaico è un impianto trainato Rispetto al trainante che è la pompa di calore Che va a completamento Proprio per switchare la necessità di energia Anziché produrla dal gas Si utilizza l'energia elettrica E quindi l'autoproduzione dell'energia elettrica Nello specifico, col super bonus del 110 La produzione dell'impianto fotovoltaico Se non viene consumata Viene immessa in rete senza scambio supposto Da qui la necessità e l'opportunità Che dà il super bonus Di incentivare anche i sistemi di accumulo Quindi produzione di energia elettrica Tramite l'impianto fotovoltaico Utilizzo di questa energia Per scaldare l'abitazione tramite pompa di calore Sistema di accumulo per stoccare quell'energia Che magari viene prodotta di giorno E la necessità di utilizzo è la sera Quando rientriamo a casa Quindi il trio è pompa di calore Per riscaldare e raffrescare l'abitazione Impianto fotovoltaico per produrre l'energia elettrica Utile per far funzionare tutto il sistema E sistemi di accumulo per stoccare l'energia Che magari viene, ripeto, prodotta di giorno E l'utilità è la sera Questo è il quadro ideale Che ottimizza al massimo l'opportunità del super bonus Quindi fatto salvo la possibilità di fare il salto delle due classi E' sicuramente questo il sistema più conveniente Fermo restando che ad oggi Il sistema fotovoltaico L'autoproduzione di energia elettrica Che comunque rimane incentivato anche con altre modalità di opportunità fiscali Quali il semplice 50% nel caso di impianto fotovoltaico Il 65% in alcune determinate tipologie di ristrutturazione Di riqualificazioni energetiche Quindi la direzione verso cui tutto il sistema sta andando Cioè quello di rendere le nostre abitazioni full electric Quindi con l'utilizzo prevalente di energia elettrica E' incentivato sotto varie forme Quindi è sicuramente ad oggi Uno di quegli investimenti che conviene valutare A livello familiare per le proprie abitazioni Che ripeto può essere incentivato fino al 110% col super bonus Ma non solo perché come ho detto poc'anzi Può essere incentivato al 65% con determinati presupposti Fino al minimo del 50% Consigliate anche le colonnine elettriche Perché insomma è sulla mobilità Si sta spingendo anche per chi acquista un'auto Magari va in quella direzione Ci sono le ibride in questo momento Ma l'elettrico sta prendendo piede Sarà probabilmente il nostro prossimo futuro E' un altro elemento che incentiva il super bonus 110% Che è anche quello delle colonnine elettriche E' legato però agli interventi che rientrano E' un intervento trainato Quindi fatto stabilito l'intervento trainante Che produce il salto delle due classi E quindi dà accesso al 110% Fatto quello l'impianto fotovoltaico Il sistema d'accumulo La colonnina di ricarico Sono tutti interventi trainati Che rientrano all'interno del 110% Perché alla base c'è questa tendenza A spostare il mercato del domestico Prevalentemente verso dei sistemi completamente elettri Dalla mobilità all'home eccetera A tutto quello che ci sono gli impianti All'interno delle abitazioni Ferraioli insomma ci sembra aver capito Che voi fate parte di gruppo SGR E vi proponete come partner tecnico In questa squadra Nella quale l'unione fa veramente la forza Perché poi il privato Insomma vorrebbe non inciampare Sulla burocrazia Sulle difficoltà E quindi farsi aiutare Da una squadra Una squadra anche di professionisti Come no La squadra Quindi la collaborazione e le competenze Certo La squadra è molto importante In particolar modo Ecco quanto si parla di efficienza energetica Ecco Parlando sempre della storia I mestieri erano ben suddivisi L'elettrico Il termoidraulico L'ingegnere Oggi invece se non c'è questa alleanza Il risultato non c'è E con il nostro gruppo Completiamo a cappello Tutto questo Diciamo questa attività E come diceva lei Ingegnere C'è tutto l'interesse Visto ovviamente Nella maniera più positiva Nel portare a termine Quelli che sono Tutti gli impegni Burocratici Tecnici Quindi Astea si pone A garanzia Certo A garanzia In termini di Effettuazione dei lavori E di Maturazione Del credito fiscale All'interno del cassetto fiscale Perché Senza di quello La remunerazione Della nostra azienda Non è garantita Perché Consideriamo che Tutti gli interventi Al 110% Che vengono operati Da noi Soprattutto Nel rambo di impiantistica Che diciamo ora Vengono fatti Con lo sconto in fattura Quindi L'azienda fa l'intervento Con i propri soldi E poi Deve per forza Garantire Che tutto il percorso Abbia compimento Dalla Diciamo Dalla progettazione Alla Esecuzione Dei lavori L'asseverazione tecnica Visto di conformità Fino alla creazione Del credito Nel cassetto fiscale Questo diciamo Che è garanzia Di qualità Di servizio E di effettuazione Dei lavori Sia per il cliente finale Che per noi Perché se non Chiudiamo il cerchio Chiaramente abbiamo fallito E non abbiamo La remunerazione necessaria Alla sussistenza Dell'azienda Miglioriamo le nostre case Miglioriamo le nostre vite E riprende anche Un'economia Del territorio E riprende Riprende il lavoro Sostanzialmente Che è un po' L'obiettivo Che ci prefissiamo tutti Mi preme dire una cosa Se posso Che il nostro approccio Come azienda È molto inclusivo Anzi Anche con tutte le categorie Presenti sul territorio Quindi al di là del fatto Che noi abbiamo creato Questa struttura Efficiente Che coinvolge Tecnici Impiantisti E clienti finali E anche professionisti Fiscali Noi abbiamo un approccio Molto inclusivo E quindi Siamo molto Visto che la quantità Di richieste È molto importante Come abbiamo sottolineato Anche nei precedenti incontri Siamo aperti In maniera Importante A collaborazioni Col territorio Perché vogliamo Fornire un servizio Avendo la possibilità Di coinvolgere tutti E allora Io vi ringrazio Per essere stati Nostra compagnia Anche in questo spazio Che è di informazione Sperando di esservi Stati utili E di essere stati Sufficientemente Chiari Nella spiegazione E poi ovviamente Lo vedete In sovraimpressione C'è un numero verde C'è Astea Che è una realtà Del territorio Che tutti conoscono E alla quale Tutti possono fare Riferimento E parlare Magari Direttamente Con loro Come abbiamo fatto In questa occasione Ringrazio ancora L'ingegner Marco Cardinali Responsabile Efficientamento Energetico A St'Energia Gruppo SGR E il signora Fabrizio Ferraioli Della Umonima Ditta Con Francesco Lazzaro Il collega Nonché amministratore Insieme a Ferraioli Della stessa Grazie a tutti Grazie a tutti